Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutti voi. Questo venerdì ho deciso di parlare dello slut shaming. Come premesso nel video del body shaming, quelli che andrò a trattare nelle prossime settimane saranno temi abbastanza specifici, quindi se avete anche suggerimenti o se ci sono temi che a voi stanno molto a cuore, fatemeli sapere, mi raccomando. Prima di iniziare tutto questo video, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, viste anche le nuove regole di YouTube purtroppo che penalizzano tutti noi canali piccolini, quindi vi ringrazio davvero tanto se lo fate e potete sostenere il mio canale e tutti i contenuti che propongo ogni settimana tramite i like, tramite le condivisioni, guardando tutti i video del mio canale, insomma. Ci sono tanti modi per sostenere anche non economicamente Miss Fiction Books per fare in modo che io possa riuscire a continuare a produrre video e dedicare tempo al mio canale. Spazio pubblicitario finito? In ogni caso passiamo direttamente al tema di oggi che è lo slot shaming. Che cos'è? Prima cosa che faccio sempre, ovvero definiamo che cos'è lo slot shaming. Lo slot shaming sono quella serie di comportamenti che vengono adottati per denigrare o far sentire una donna, soprattutto una donna, ma non è detto che sia solo una donna, colpevole per i propri atteggiamenti sessuali e per le proprie abitudini legate alla sessualità, ma non solo, anche al modo di vestirsi e al modo di porsi, perché tendenzialmente non corrispondono a un'idea prefissata, soprattutto dal campo religioso, di come dovrebbe essere una donna. Quindi poi per farvi un esempio specifico, se una donna si veste in maniera provocante, se una donna ha più di un partner. Quindi ciò che viene attribuito come negativo, come una cosa che non può assolutamente essere concepita nel mondo, è una donna che ha libertà sessuale, tendenzialmente, o comunque una promiscuità. Quella che viene ovviamente definita promiscuità. Al tema si complica perché ad esempio slut shaming è anche far sentire in colpo una donna che accede a contraccettivi, far sentire in colpo una donna che adotta misure di interruzione di gravidanza e giustificare anche la violenza su alcune donne perché in fondo se la sono cercata, grazie al loro atteggiamento, al loro abbigliamento e alla loro promiscuità. Come sempre quello che io penso che è il motivo per quale esiste questa rubrica, quindi potete dissentire totalmente da me, io penso che ognuno debba assolutamente essere libero di fare quello che vuole con il proprio corpo. Se una persona decide di avere più di un partner, deve essere crocifissa proprio perché questa persona ha la piena libertà di fare con il proprio corpo quello che le pare. E quindi ovviamente se una persona decide di avere più di un partner, non è un problema. se una persona decide di vestirsi, andare in giro in mutande, in bikini, in pieno inverno, non è un problema vostro né è un problema mio, è un problema della persona che avrà magari freddo. Però cioè non è un problema, sono scelte e soprattutto poi quando si parla di controllo delle nascite, quando si parla di preservativi, insomma, sono tutte cose di rettaggio un po' cattolico, moralista, religioso, eccetera, che vengono attribuite alle persone che invece scelgono di vivere la propria vita come vogliono, insomma, non c'è nulla di male secondo me. Faccio anche un passo indietro, ovvero lo stesso comportamento che agli uomini viene attribuito come caratteristica del maschio vero, quindi avere tante donne, non avere una relazione stabile, passare da un partner sessuale all'altro, insomma, questa caratteristica per gli uomini viene considerata una grande, potente forma di affermazione personale, mentre per la donna avere più di un partner. Oddio, non si sposerà mai! Capite che queste sono, di nuovo, aspettative di genere, quindi tutto ciò che viene proiettato attraverso lo slut shaming è aspettativa di genere, ovvero, le aspettative di genere sono tutte quelle cose che ci si aspetta, non dalle capacità del carattere che una persona manifesta, ma che sono indipendenti da tutto questo e dipendono solo e unicamente dal genere di appartenenza, quindi io donna è previsto che abbia solo un partner, perché la mia vergini è sacra, che io non abbia promiscuità sessuale, che io non compri contraccettivi, che io non interrompa le gravidanze indesiderate, che non mi vesta in una maniera che non è accettata dalle altre persone perché è promiscua o comunque sensuale. Allora, se nella vita reale tutto ciò è assurdo, perché io penso che ognuno di noi dovrebbe vivere la propria vita sessuale nella maniera che ci rende più felici e appagati possibile, perché non è possibile che ancora ci sia qualcuno che ci debba dire come dobbiamo vivere il nostro corpo e la nostra sessualità. È una scelta nostra perché non va a intaccare qualcun altro, chiaramente vi auguro di non farlo in situazioni complesse perché dopo si creano un po' drammi e cose, vabbè ma questo non c'entra niente. Invece quello che ci tengo davvero a sottolineare è che soprattutto lo slut shaming è una cosa come per il body shaming facile da fare, quindi giudicare una persona perché le sue abitudini sessuali non corrispondono alle nostre, perché questa persona, questa donna, non abbraccia l'immagine di donna angelo che ha relazioni solamente che durano tutta una vita o che incontra solo grande amore, insomma non sta a noi dire a lei quello che deve fare, non sta a noi giudicare i suoi comportamenti sessuali. Riguardo invece l'abbigliamento non vorrei nemmeno commentare perché non è una gonna corta né uno short a metà chiappa che implica che una persona è promiscua tra l'altro. Una cosa veramente assurda è pensare che una persona che porta una maglia molto scollata automaticamente lo faccia solo e unicamente per ricercare partner sessuali, non può essere parte del proprio stile, non può essere una cosa in cui una si sente comoda e in cui una si sente anche, non lo so, bene con questa cosa, cioè non davvero faccio fatica a pensare. Giudicare la lunghezza di una gonna automaticamente implichi capire come una persona è fatta, però ripeto io ormai vivo in un mondo un po' dorato dove spero che tutte queste cose vengano superate e invece non è così. Quello che vi posso dire però è una cosa semplice ovviamente la letteratura non è immune dallo slut shaming e anzi devo dire che nella letteratura per ragazzi e negli young adult se alcune cose piano piano sono state superate perché se fino a cinque sei anni fa era molto prevalente la struttura dove c'è la protagonista che chiaramente è casta pura, immacolata, innocente e assolutamente vergine e che quindi non ha né sperimentato né vissuto la sua esperienza sessuale, la sua vita sessuale perché diciamo che ovviamente c'era sempre il problema della contrapposizione quindi la persona che abbraccia la sua vita sessuale è il nemico perché chiaramente vivere la propria sessualità in maniera libera, tranquilla e del tutto consapevole è visto come il male assoluto, anzi di solito è un modo proprio per sminuire le persone ed è per questo che lo slut shaming è negativo perché una persona che vive la propria vita sessuale in maniera serena non è automaticamente una persona dal quotiente intellettivo basso che è quello che di solito viene fatto passare negli young adult e penso veramente che indipendentemente dalle nostre scelte cioè non va giudicata una persona che non sceglie di avere una vita sessuale attiva perché aspetta il grande momento il grande amore è lecito, come è lecito dall'altro lato invece non aspettare il grande amore e vivere la propria sessualità nella maniera più libera possibile, chiunque sceglie per sé, non possiamo noi scegliere per qualcun altro e non possiamo nemmeno giudicarlo secondo me o comunque non possiamo proiettare quelle che sono le nostre aspettative su quello che è la decisione di qualcun altro almeno io la penso così, mi rendo conto che vivo nel mondo delle favole ma io ci tengo veramente proprio per far passare questo messaggio, non è l'avere più partner che vi porterà a essere delle persone dal quotiente intellettivo basso, cioè è proprio questa è un'equazione che però per anni ha martellato dentro gli young adult per anni è stato il filo portante di tantissime storie d'amore, di contemporary e di letteratura per ragazzi ovviamente ci tengo anche a dire che dall'altro lato è chiaro che se una persona aspira a il grande amore per fare qualsiasi passo dal punto di vista sessuale non deve venire sminuita allo stesso modo perché slut shaming si fa da un lato e dall'altro ovviamente, cioè non è solo chi vive con molta libertà la propria sessualità ma anche chi non la vive per nulla, cioè in entrambi i casi sono scelte personali invece come dicevo prima, una polarizzazione così forte come avveniva prima non c'è più perché effettivamente io non vedo solamente ed unicamente la contrapposizione tra chi vive la propria sessualità e quindi negativo a chi non la vive come qualcosa di puro, salvifico e positivo come diciamo avveniva magari una volta perché è una cosa che ha radici molto più profonde nella letteratura, quindi dalla letteratura classica che ovviamente ha dei richiami al cattolicesimo e al cristianesimo come alla letteratura contemporanea alla letteratura soprattutto per ragazzi di oggi c'è stata questa polarizzazione totale è stata un po' superata questa fase, non siamo più nel Bella Swan faccio sempre quell'esempio perché secondo me è molto puntuale è un personaggio di quel tipo rispetto a qualcuno che invece era la cattivella della situazione proprio perché viveva la propria sessualità e impediva alla protagonista di raggiungere i propri obiettivi ok? ora però non è che abbiamo superato tutto perché comunque una cosa che secondo me ancora è difficile che rappresenti in qualche modo l'esplorazione sessuale è ad esempio avere molti partner in tantissime serie è difficile trovare un personaggio che abbia più di un partner più di un fidanzato, più di una storia d'amore perché effettivamente c'è sempre quest'idea che dobbiamo conoscere solamente e unicamente quello che sarà l'amore della nostra vita, quello che sarà il partner con cui noi finiremo i nostri giorni perché è bello pensare che sia così, è sempre qualcosa che ci conforta da un certo punto di vista dall'altro lato però io penso una cosa senza tutte le bruttissime esperienze tendenzialmente non si arriva nemmeno a capire qual è quella persona con cui funzioniamo bene però vabbè nel senso questa poi è un'opinione più mia personale se voi avete trovato il vostro primo amore e subito è l'amore della vostra vita ma che fortuna che avete però generalmente una cosa che viene vista ancora come negativa è una protagonista con più di un partner come se questo fosse qualcosa che no perché arriviamo solo al grande amore ma invece quando io penso all'adolescenza non per forza ovviamente noi dobbiamo avere tante storie anzi cioè non è assolutamente necessario però dal lato l'adolescenza in tanti casi rappresenta anche l'esplorazione sessuale non solo quella dove andiamo a definire chi siamo i nostri gusti eccetera anche la sessualità è una parte importante della nostra vita magari non è rivolta verso l'esterno quindi non ha a che fare assolutamente con qualcun altro ma è più noi che capiamo anche cosa ci piace dove vogliamo andare quali sono i nostri gusti eccetera eccetera come scopriamo il nostro corpo insomma c'è quella fase lì però dall'altro lato può essere anche una fase dove le persone hanno accesso a più di una storia a più di una persona con la quale intraprendono una relazione magari solo sessuale magari non solo sessuale però magari va male quindi poi capiamo che è una perdita di tempo e passiamo a qualcun altro con cui sicuramente investiamo il nostro tempo in maniera migliore o magari anche questa seconda chance va male oppure si esaurisce in una sera soltanto quindi passiamo a un nuovo partner cioè questa cosa io non la vedo mai proprio perché viene considerata ancora non lo so è sempre più bello pensare che ci sarà solo quella grande storia d'amore eccetera eccetera una persona che secondo me lo introduce e questo vi sorprenderà a tutti ad esempio Sarah J. Maas entrambe le protagoniste di Sarah J. Maas hanno più di una relazione poi vabbè la seconda è sempre quella cioè la prima è fallimentare la seconda è quella della vita però almeno apprezzo questa cosa qui invece per farvi un esempio abbastanza centrato vorrei parlarvi di Anna and the French Kiss e come lo slut shaming proprio è una colonna portante di questo libro è come io vorrei bruciare tutti i libri che contengono esplicitamente frasi che denigrano altre persone solo per i loro comportamenti sessuali o per come si vessono o per le scelte che fanno riguardo ai loro partner allora per chi non fosse familiare con Anna and the French Kiss e se vi è piaciuto questo libro assolutamente come ripeto tutte le settimane il mio pensiero e tutto quello che io evidenzio non va ad intaccare il vostro legame con il libro se questo è un libro che amate la mia è una critica solo dal punto di vista strutturale a quello che io trovo non coerente o comunque trovo sbagliato dentro il libro ma questo non va a intaccare il vostro legame con il libro se a voi è piaciuto perfetto non c'è nulla di male spiegatemi magari cosa io non ho visto ecco questo lo trovo più costruttivo allora per me Anna and the French Kiss ha diversi problemi il primo è che Anna è proprio irritante ve lo dico questo non sarà una cosa oggettiva comunque Anna per me è uno stereotipo proprio del fallimento del sistema scolastico americano perché è di un'ignoranza incredibile è un personaggio proprio irritante perché primo è una proprio ignorante come pochi e soprattutto è anche molto moralista è proprio giudica un sacco le persone con cui si trova tra l'altro vuole fare la critica cinematografica cioè il fatto di essere totalmente irrealistica questa cosa vuole fare la critica cinematografica è a Parigi pieno di film, pieno di cinema e lei dice no ai film classici, ai film vecchi perché i suoi gusti sono più raffinati e guarda solo cinema americano atria proprio del cinema l'America è quella che produce solo cose di valore tutto questo libro è una sorta di ode adorabile di problemi dei bianchi privilegiati del primo mondo fondamentalmente perché c'è lei che va in Francia per studiare in una scuola americana e non so come dire cioè non sa nulla Anna non sa nulla altro che Jon Snow fondamentalmente ma vabbè la cosa allucinante di questo libro riguardante lo slut shaming è che viene proprio usato in maniera abbondante proprio ci sono delle frasi imbarazzanti per essere stato scritto nel 2014 credo tra l'altro dove penso che la discussione su questi temi fosse già iniziata quindi è strano però evidentemente quando qualcuno ce l'ha dentro fatica proprio a portare verso l'esterno un'idea diversa in questo libro lo slut shaming viene proprio dichiarato sbagliato cioè ci sono diverse frasi che dicono questa cosa ma solo e unicamente se lo slut shaming è nei confronti di Anna che è la protagonista perché ovviamente Anna si ritrova in Francia si innamora di un ragazzo che però è fidanzato quindi se tutto ciò è rivolto verso di lei è sbagliato invece Anna abbonda di critica le altre ragazze sui loro comportamenti su come si atteggiano dal punto di vista sessuale proprio ce n'è un'abbondanza adesso vi traduco al volo in italiano non so neanche se è stato tradotto in italiano comunque è una serie molto famosa si parla di una scena dove c'è una festa in maschera e una festa in maschera di carnevale non mi ricordo di preciso comunque una di queste ragazze è vestita in maniera un po' provocante c'è un dialogo tra Anna e una sua amica e la frase è la seguente non andrà vestita come un'infermiera zoccola e Anna risponde no come una normale e l'amica risponde con un vestito così corto e un seno così gigante e Anna risponde che troia allora quindi adesso questa è una frase tra le tante potrei dirvi una marea di altre che evito comunque in pratica tutto questo libro si incentra su slut shaming sbagliato perché è rivolto verso Anna perché Anna praticamente ovviamente fa in modo e maniera che questa relazione con il tipo che le piace si imponga sulla sua relazione invece attuale quindi ovviamente lei poverina deve passare come il personaggio positivo in qualche modo anche se sta facendo in modo e maniera di mettere in difficoltà il ragazzo che le piace proprio perché vuole portarlo ovviamente a tradire la ragazza perché è innamorata di lui e bisogna sempre far vedere come Anna sia la parte positiva quella che subisce quella che deve stare in silenzio quella che purtroppo è vittima di tutta questa situazione soffre però lei non si risparmia mai di fare commenti come quello che vi ho citato prima riguardo alle altre ragazze quindi tutte le altre ragazze sono praticamente il male in quanto potenziali avversarie dal punto di vista sessuale rispetto ad Anna e lei quindi deve passare come la povera innocente ma e qua è un po' spoiler comunque in pratica quando lei comunque cercherà di lavorare in modo che la sua relazione abbia inizio ed effettivamente si comporta esattamente nella maniera che lei critica invece ad un altro allora lì va bene lì è perfetto ma tra l'altro in tutti questi casi uso delle frasi veramente molto esplicite di slut shaming si parla del vestiario si parla dei comportamenti sessuali è uscita con più ragazzi quindi oddio e cose di questo tipo ci hanno veramente molto a che fare molta inerenza con lo slut shaming già di per sé secondo me l'odio tra ragazze non è positivo soprattutto se si basa su queste cose odiare una persona per me è più che lecito perché non è che possiamo essere simpatici a tutti ma l'odio unicamente dipendente dal genere e che si basa su caratteristiche fisiche su abitudini sessuali su piccole scaramucce legate a questi tipi di cose tra l'altro molto stereotipati cioè a lui piace lei a lei piace lui ma a lui piace anche a me cioè queste cose da small talk e soprattutto questi stereotipi di odio tra ragazze già a me infastidiscono molto figuratevi in un libro dove abbondano e quindi già questo non è positivo in più se viene farcito di slut shaming perché non ci sono altri argomenti fondamentalmente di solito lo slut shaming come per il body shaming è un espediente quindi perché complicarsi la vita e cercare di costruire proprio una storia dove questa competizione tra ragazze che è lecita e ci può essere in qualsiasi campo della nostra vita soprattutto in quella letteraria che ovviamente gode di una fantasia ancora più grande rispetto a quello che ci succede a noi tutti i giorni perché complicarsi la vita e costruire una storia complessa con dei personaggi solidi con una rivalità che abbia un senso quando si può usare lo slut shaming perché è così facile e quindi io critico proprio questo agli scrittori soprattutto quando si rivolgono ai ragazzi non trovo giusto continuare ad anteporre dei spedienti rispetto a una storia scritta decentemente una storia dove c'è un livello di complessità molto più grande dove ci si impegna per scrivere qualcosa che abbia delle basi un po' più solide rispetto a eh ma il vestito corto è una troia cioè tra l'altro dare della troia a una persona ragazzi cioè aggiungo anche questa cosa è come postilla forse finale che non sarà mai la fine vabbè ma io ci provo in ogni caso dare della troia a una persona è una cosa che è capitato a tutti perché quanto è più forte dire troia rispetto a dire un'altra cosa magari se siamo arrabbiati con una persona con una persona è molto più facile dire questo rispetto a come dicevo anche per il body shaming cercare dei termini un po' più appropriati rispetto al nostro sentimento riguardo a questa persona se ripeto l'odio è legittimo ci possono essere un milione di problematiche che intercorrono tra le persone secondo me non stare simpatici a tutti è un dovere però recriminare le problematiche che noi abbiamo con questa persona perché è una troia o perché si veste come noi non approviamo o perché ha dei comportamenti sessuali che noi non condividiamo o perché ha deciso di andare a comprare i preservativi da sola o perché ha deciso di interrompere una gravidanza desiderata o perché la gonna che indossa è troppo corta per quella che metteremo noi o perché la sua scollatura è più grande rispetto a quella che di solito utilizziamo noi stiate capendo che già gli argomenti sono deboli in più figuratevi quando si usa un linguaggio davvero molto inappropriato per concludere come sempre io spero che la letteratura soprattutto quella per ragazzi punti a dare degli argomenti e sempre delle dinamiche un po' più interessanti e un po' più approfondite rispetto a queste che sono davvero molto superficiali e che non andranno ad incidere in alcun modo sul risultato finale perché come per Anne and the French Kiss noi andremo a leggere solo una cozzaglia di luoghi comuni sull'odio per ragazze invece che leggere magari proprio una dinamica un po' più interessante proprio riguardante a questa contrapposizione tra le persone l'altra cosa che io mi aspetto davvero è di vedere come non venga più stigmatizzato l'avere più partner sia sessuali che di relazioni non è necessario che ci sia la sessualità di mezzo ma non è un problema secondo me quando un personaggio ha più di un partner va bene è normale è la vita rispecchia quello che succede tutti i giorni nel nostro quotidiano perché non è detto che la prima persona che noi incontriamo per forza corrisponda all'amore della nostra vita magari non lo troveremo mai magari non è un nostro prerequisito magari non è qualcosa che noi stiamo cercando però non è giusto non è corretto nei confronti di qualsiasi persona giudicare la ricerca di più partner sessuali giudicare il modo di vestirsi giudicare il modo in cui si pone nei confronti della sessualità solo perché noi non lo condividiamo o solo perché noi aspiriamo a qualcos'altro cerchiamo qualcos'altro ognuno di noi è fatto nella sua maniera ognuno di noi cerca qualcosa che è diverso da persona a persona quindi non riesco proprio a immaginare come sarebbe se tutti cercassimo solo un grande amore se tutti cercassimo solo un partner sessuale se nessuna donna si azzarderebbe mai a mettere una scollatura cioè io non ne metto molte perché non mi piace proprio a livello di stile ma mai penserei di giudicare qualcuno perché c'ha la scollatura un po' troppo bassa ragazzi bisogna superare queste cose nel 2017 soprattutto quando poi succedono cose veramente atroci come violenze supri eccetera dove la frase Emma se lo è cercato Emma aveva la gonna molto corta Emma lo provocava con il suo abbigliamento il suo atteggiamento Emma tutti sapevano che era una troia ragazzi quando uno dice no è no sempre cioè non è che se io ho una gonna molto corta dico no tu sei autorizzato a stuprarmi cioè capite che finché queste cose non entreranno nella nostra mentalità e che non entreranno nel nostro quotidiano non supereremo mai queste barriere proteggeremo anche sempre i violenti e chi abusa dal punto di vista sessuale di certe persone e proteggeremo in qualche modo chiunque abusi sessualmente o anche mentalmente insomma ci sono tanti tipi di abuso esistenti al mondo di violenza psicologica che hanno a che fare con la sessualità è davvero difficile tra l'altro parlare di questo argomento senza arrabbiarsi però io spero che quello che ho detto oggi abbia un senso per voi e che spero che le vostre esperienze possano in qualche modo rispecchiarsi nelle mie parole o comunque trovare dei punti di congiunzione discutiamone insieme perché per me è un argomento molto importante che ancora è difficile da far passare nella nostra mentalità soprattutto tra ragazze soprattutto quando abbiamo delle radici così forti in un'ambientalità che venera la verginità che venera la donna pure casta e parlo di anche di letteratura insomma e l'amor cortese su quelle cose lì ci sono altre esperienze che magari non fanno parte di noi fanno parte di persone che ci sono vicine magari fanno parte di persone che non conosciamo e sono lontane da noi ma sono pur sempre valide e legittime non possiamo decidere noi di essere la spada della verità in tutto questo mondo questo è quello che penso e spero che anche voi ci possiate rispecchiare in caso di no fatemi sapere cosa non vi torna fatemi sapere che cosa ho detto che però magari vi ha incuriosito e che vi può avere interessato se avete altri esempi letterari riguardanti lo slap shaming fatemi sapere io non vedo l'ora allora io vi ringrazio per essere stati con me in questo Feminist Friday ricordatevi che tutti i venerdì sia qua sul canale ci sarà un video spero sia su Instagram io riposto tutte le foto di chi partecipa al Feminist Friday mettendo l'hashtag partecipando con una foto con una discussione su un libro su un personaggio su un tema che ha a che fare con il femminismo e che per voi è importante mi farebbe davvero piacere io vi ringrazio per essere stati con me in questo Feminist Friday e per questa rubrica ci vediamo a venerdì prossimo per il resto invece ci vediamo al prossimo video grazie mille ciao